Regà, io ho una particolarità Pa... Pa... Particolarità da dirvi per questa sera Perché questa sera, per ogni sub, come ha fatto ad esempio Stormdog O sub regalata, resa buona, eccetera eccetera Oltre ai classici 100 dobloni a testa Che se ne andranno pian piano a cumulare Beh, ciurma, ci sarà anche questo Ogni sub 5 TNT Perché stasera faremo esplodere una grossissima zona della vanilla dei sub L'abbiamo promesso e quindi sì, ciurma, eh già Ogni sub 5 TNT Quindi semplicemente basta prendere sto numeretto Levare due zeri e fare per cinque E in più ci sarà una particolarità per chi gioca all'interno del server Minecraft Quindi raga, tante belle cose Allora raga, cosa andremo a fare noi stasera? Andremo a fare esplodere la ciurma di Miki E l'obiettivo sarà quello di riempire talmente tanto di TNT Che non rimarrà neanche un blocchetto E rimarrà soltanto la L che vi avevo fatto nella scorsa live in Bedrock Sarà veramente divertente Come detto, a ogni sub ci saranno cinque TNT piazzate Già siamo a 55 sub Che sono 275 TNT Ma c'è il plot twist Perché adesso me ne vado in survival E raga, per chi è nel vanilla Alla modica cifra di mille dobloni Facendo il comando TNT Mi darete una TNT con il vostro nome E potete darmene quante volete Eccole qua E riguardaci No! Stanno già arrivando No! Lo sapevo E' finita E' finita E' finita Oh mio Dio Oh mio Dio Ma ora ne ha dato due Abbiamo Entity che è natale 20 Storterald 22 Stanno aumentando Devo piazzarle E' stata una pessima idea A mettere No! No! Me ne sta dando di più lui! Me ne sta dando di più Ok Ne ho 55 di Storterald Ho scoperto che a che fare Il pling è stata una pessimissima idea Tu hai chiesto esplicitamente Io voglio il pling Lo so! Ma non pensavo che fosse così alto No! No! Non so più che fare! Me ne stanno arrivando troppe! Oh no! Potete mettere in Peaceful Così almeno Non perdo cibo Thank you! Perché io qua Mi sa che passerò la live A fare così E raga Sarà divertente Ma gli facciamo qua tutti il contorno anche Non doveva andare così No! Non doveva andare assolutamente così E quello è il fatto Doveva essere chill Sì No raga Ne sta arrivando un bordello Salvate il gatto Salvate il gatto Giustamente c'è il gattino bianco qui No! Gli facciamo la cuccia Dove sta? No! No! Pensa che sia Artoo Aspetta che lo riempio! Raga Sono troppe Sono troppe Io l'ho visto Sono stacchi di TNT di qualcuno Non so chi sia stato Beh raga È un buon modo per spendere i doble sul vanilla Che dite? Perfetto 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 Ma ne rimane ormai questo pezzettino Abbiamo fatto Tutta la cornice Ma ancora mancano tutte le strutture Eccetera E mancano ancora le Le quasi 300 TNT eh Allora la cornice è stata fatta L'omega pure L'omega lull Andiamo Facciamo anche qua Già che ci siamo Facciamo i contorni di tutto Ormai Però dobbiamo farlo a modo di miccia Nel senso che scoppiano una Ora si scopre che le TNT non sono abilitate Guarda 100 C'è sto server Ok No Ho perso la mira ormai Ti giuro C'è In realtà si fa sentire Ma porcazza ozza A furi di cliccare Raga bene Oh le strutture stiamo finendo eh Mi aspettavo peggio Ma in realtà Eh Potevano sfogarsi Oddio Pit ha speso 330 K Eh ma potevano sfogarsi di più Cioè Dove lo vedono un evento così Dai Oh qua ti rimane proprio La L in bedrock Sì sì ma la domanda Secondo te Sì Mi sarebbe reggerà Ma certo A vostro Oddio quanto Ma ne abbiamo pensato un bordello Oh non le stanno arrivando ancora un bordello Eh metti poi un secondo Ti faccio vedere la sfinge Formato Ecco girati Guarda guarda queste due sfingi Bellissime Veramente bellissime L'arte contemporanea Nuovo concetto di esplosione Parte 2 Questo Raga Facciamo una prova Cercate di farmi fare Un parkour Con le TNT Io aprendo un po' Comincio a camminare Voglio darmi la prima manetta Ok Allora ci sono 3 2 1 Via No Ok Atentete TNT Oh Rip Oh mio dio Stanno arrivando un bordello di nuovo Che è successo Oh C'è arrivano 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 Oh Gesù Cristo Stanno proprio a fare una cazzata enorme No Aspetta C'è qualche leva messa attivata in giro Mi sa Fai anche attenzione a quello Assolutamente Ci sono qui le leve Non entrare in quel punto E appunto Fai attenzione anche Vicino alle cose Che Parte una TNT E' finita Allora Raga Io vorrei fare un'altra panoramica Oh mio dio Ma c'è ancora questa qua Ma non l'avevo vista Allora raga Diciamo che Raga Sparirà tutto No Io sto ricevendo troppissime TNT ora Sto andando un attimo anche al di fuori Raga Sarà in esposizione Durerà 50 anni Ma questa è una farm Di meloni anguria In redstone Ma facciamo subito esplodere No Dove ne fare subito Ok Oh mio dio L'ho messo per un obosservare Che si cresceva in anguria E era finita Allora Io vorrei far notare Adesso A distanza degli altri 5 minuti Rispetto a prima Oh mio dio Oh mio dio Eh Questa zona qui Che fa? 20.000 TNT Non deve subire Non deve subire Anc 20.255 TNT Oh mio dio MMM Guardami Girati un secondo Qua 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 No Dove sei? Io non te lo dico più Sì te l'ho detto adesso no Non ti stai girando Esattamente in quella direzione Ah ciao Iula Sì Pronta a vedere una cosa malatissima Cosa? Guarda i blocchi Guarda i blocchi Guarda i blocchi Anche sopra il grano Oh mio Aspetta qua non è che c'ha Qui c'è Carolina Il tempo di Carolina Perfetto La sto boxando Questa qui la Carolina Ce ne sono due Io C'è un impostrice No mi sa Ok mi sa che non esisterà più Sto tempietto Dai Quel tempio Quel tempio No 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 Non esisterà più Tutto altro che è ancora Impossibile Allora Allora Io adesso voglio far notare Il resoconto Più o meno di tutto No no Cioè È rossa la zona Cioè Più andiamo avanti E più si peggiora Cioè più andiamo avanti E più si peggiora Guardate il devasto che Il tempio principale È fottuto Cioè Quello esplode sicuro Ma in un minuto Ma aspetta aspetta Iule Ma le colonne Che fai? Le lasci vuote No che le lasci vuote Aspetta che sto facendo gli spalti Che non si sa mai che sopravvivano Eh infatti Le raga le tt stanno facendo sentire Mi sa Ho questa impressione Penso che siano Leggermente Siccome sono entità Le più No No Perché non esplodono No Sì Sì Beh io direi che Ciurma Veramente ci siamo Quindi in realtà Già potremmo Oh no E niente Come l'ho detto Mi sono arrivate altre Da dove le startiamo? Non lo so Io farei dall'inizio Così se lo mangia pian piano Qui muore tutto Oh mio dio Ecco forse la miccia qua Non è tanto Top Quindi ecco Direi che Così No questo lo leviamo Non si sa Il centro è un po' vuoto Avete ragione Avete ragione Ora è perfetto Ciurma Il riso conto è questo Stiamo per far esplodere tutto E queste sono Oh una Scusa un attimo Ok Perfetto Ciurma Abbiamo tutto questo ponte Che andrà Nella zona Che è piena Di tnt c'è Raga Guardate Raga E' finita E' finitissima Ciurma E' giunto il momento Lì abbiamo anche trappato Il proprietario della zona C'è anche il redde Ma contento Perfetto E' contento anche lui 3 2 1 3 2 1 Ed è partita E' partita E' andata Allora Se ancora menti Il campietto Non c'è più Oh mio dio Oh mio dio E' andata E' andata Oh mio dio Oh mio dio C'è ormai buon anno Oh mio dio No 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 E' finita E' finitissima E' finitissima E' finitissima tutto Oh mio dio Raga Andiamo dall'alto Questo non è carico E' finita E' finita Oh mio dio Raga Arriva il tempio Lo smistamento E' già andato Qua raga E' già andato E' andato qualsiasi cosa Oh mio dio Eccolo Eccolo Sta partendo il tempio Tempio C'è stato un momentino C'è stato un momentino Sto laggando Sto laggando il set Sto laggando il set Oh mio Oh no Oh no E' questo il momento Sto laggando anche Le bello Spreggiate le TNT Mi scrivo Che sta facendo Devast Regà scusate Per se c'era Oggi E' andato Oh mio dio Regà E' finita Arriva la torre Oh mio dio No no Sta partendo Ciao tempio Ma quella zona Ah ok Ok Come non Regà non è rimasto Regà non è rimasto nulla Poi ancora stanno esplodendo Non è rimasto nulla Oh mio dio E' finita Vabbè la torre La torre ha fatto rosso Giusto La torre E' andata Regà La torre sta andando Oh 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 E' partito Di botto Quella Guarda le TNT Là E' uno spawn Le TNT Si sta mangiando Tutto Si sta mangiando Tutto TNT che volano Raga C'è C'è Questo è quello Che è rimasto Niente Letteralmente Niente La finiamo La facciamo finita No il server Tutto Accendilo Il maniaco Scappa 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 Preciso Oh è finita Mi si è fremato Minecraft E' andato E' andato Minecraft E' andato Minecraft raga Ho 3 fps Ho 1 fps Ho 0 fps Io 0 Già un pezzo Tu c'hai il lag ancora